Un crollo parziale del tetto si è verificato nella notte tra sabato e domenica nella chiesa di San Vincenzo a Capracotta. Fortunatamente illesa la campana posizionata alla sommità della facciata anteriore. Si tratta di un antico bronzo realizzato nel 1864 da Tommaso Marinelli della celebre pontificia Fonderia di Agnone. Il cedimento del tetto realizzato in legno ha interessato la parte immediatamente alle spalle del campanile che però è rimasto intatto. La chiesa di proprietà di una storica famiglia della borghesia capracottese ma destinata all'uso pubblico, tant'è vero che fino a una ventina di anni fa vi si celebrava regolarmente messa, risale alla seconda metà del 1700 e da diverso tempo era chiusa al culto. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che oltre a mettere in sicurezza l'area hanno effettuato le verifiche statiche sulla struttura e insieme ad alcuni fedeli hanno anche provveduto a spostare alcune statue ed opere d'arte contenute all'interno del luogo di culto. Gli uomini del distaccamento di Agnone hanno lavorato a lungo per effettuare il recupero della campana affinché ne venisse preservata l'integrità. Operazioni concluse con successo e terminate con il trasferimento temporaneo presso altra sede come confermato dal vice sindaco di Capracotta Pasquale Di Nucci. Sono state collocate nella chiesa madre provvisoriamente, appena termineranno i lavori torneranno al loro posto. Il sopralluogo tecnico non ha fatto registrare criticità sul resto della struttura che comunque è già oggetto di un finanziamento per i lavori di recupero. Le condizioni della chiesa già erano note da tempo, tant'è che la chiesa era chiusa e la regione ha concesso un finanziamento alla parrocchia di 80.000 euro per la riparazione del tetto. Poi, viste le condizioni, si è preferito togliere la campana e togliere due statue che si trovavano ancora all'interno. Ma comunque la chiesa, dal punto di vista statico, esterna, è tranquilla, non ci sono problemi. Quindi speriamo che, non penso che si riesca in questo momento a ricostruire il tetto, però si può mettere in sicurezza e non farci almeno entrare la neve nel periodo invernale. L'intervento dovrebbe iniziare in tempi brevi. A tempistica i soldi sono stati già concessi dalla regione, si sta aspettando il provvedimento concessorio proprio della liquidità dei fondi per fare gli interventi.